Venerdì 5 gennaio inizieranno i saldi invernali nella maggior parte delle regioni italiane. Sono già cominciati solo in Basilicata e in Val d'Aosta, mentre in Sicilia sabato 6 gennaio. Dopodomani toccherà anche la Lombardia e quindi anche a Cremona dove il comparto commercio attende una boccata d'ossigeno dopo un 2017 non esaltante e un periodo natalizio che ha lasciato un po' di amaro in bocca. Secondo Confesercenti la partecipazione di negozianti e consumatori sarà elevata. Gli sconti saranno applicati da 280.000 attività commerciali e circa un italiano su due, ovvero il 47%, approfitterà dell'occasione per fare almeno un acquisto. Chi ha già deciso di acquistare è disposto ad investire un budget di 150 euro a persona, mentre l'86% si dice pronto a spendere come o più dello scorso anno. Ad allettare è anche il fatto che quest'anno sarà particolarmente alto lo sconto medio di partenza. Il 56% dei negozianti inizierà con ribassi del 30%, mentre il resto praticherà riduzioni iniziali comprese tra il 40 e il 50%.